Stiamo attaccando i manifesti sia al nucleare e sia all'acqua pubblica per il referendum del 12 e 13 giugno, mi raccomando andate a votare. È l'unica opportunità che abbiamo, andate a votare per favore, 12 e 13 giugno 4 sì, tenete che adesso attacchi quelli dell'acqua. Fortissimi, 4 sì. Fortissimi, 4 sì. Fortissimi, 4 sì. Fortissimi, 4 sì.